eppure in italia ci stanno ancora coi coglioni come pecole che ancora vi seguono purtroppo ogni giorno c'è chi ti dà quei due euro purtroppo c'è chi rischia di morire di fame in italia la colpa tua tutti voi siete figlie di una puttana chiamata televisione tu sei un oxfam perché ti dà mangiare ma va a cagare vai puttane ipocrite carogne